Un centro massaggi abusivo dove sarebbero state praticate prestazioni sessuali a pagamento è stato scoperto dagli agenti del commissariato Libertà a Palermo nella centralissima via Arimondi. Il magazzino che ospitava il centro che si trova non distante dagli uffici della polizia è stato sequestrato e due cinesi, una donna di 34 anni e un uomo di 54, sono stati denunciati per sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. Le indagini sono scattate dopo le proteste dei residenti che segnalavano la presenza continua di uomini nei pressi del magazzino che non aveva alcuna insegna commerciale. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nel locale hanno trovato una giovane che stava massaggiando un uomo e un'altra donna che si trovava alla cassa. Il cliente ha raccontato agli agenti di avere pagato 100 euro. Il controllo sul locale è stato eseguito con i tecnici dell'ASPE di Palermo che hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie che hanno portato al sequestro del magazzino.